Poi ci chiedono dei fratelli Tramoni che erano in tribuna a vedere l'amichevole con l'Olbia uno del 2000 mi pare e un altro del 2003 con due giocatori della Corsica profili molto interessanti uno è Matteo Tramoni, 20 gennaio 2000 proviene dalla Giaccio e l'altro dovrebbe essere Lisandru un nome indipendentista Secondo voi non c'è un video? di Tramoni e li cerchiamo subito Secondo voi, noi non ve lo facciamo vedere? Allora, ci sono tutti e due tra l'altro Matteo Tramoni Welcome to Bordeaux Dai Speritti Speritti vi facciamo vedere tutto Eccolo qua dovrebbe essere un esterno d'attacco Se hanno due video di esultanze basta Non lo so Vediamo un po' E' lui o non è lui? Ah beh Iniziamo bene Era lui E' il centrocampista che ha fatto il lancio Dai, non ci voglio chiedere chi sia Dovrebbe essere un esterno d'attacco E poi non lo so Bello Sì, un ala a destra E qui sembra Boh, mezz'ala Non lo so Dovrebbe essere un ala Ah no, Lisandro è l'ala a destra Matteo Tramoni è un centrocampista che gioca anche con me l'apero Dovrebbe essere questo Che cross Un video dove chi riceve la palla segna Mi sono emozionato Un tiro Matteo Tramoni Dovrebbe essere lui C'è anche il video del Rattello che un 2003 andrebbe a rinforzare la primavera Sì, però dovrebbe essere questo che sta crossando Non va a finire come i Donnarum ma uno forte e l'altro terzo portiere A prendersi un milione Vabbè il portiere No, l'altro 2003 Allora Matteo dovrebbe andare in prima squadra Elisandro in prima squadra Esatto Perché un 2003 E questo è un 2000 quindi tecnicamente già pronto Solo rumeni No, no Sono corsi perché se gli diciamo che sono francesi probabilmente cilinciano Però sono corsi Elisandro è quello bravo C'è il fenomeno Matteo invece è bravo Noi stiamo vedendo Matteo in questo momento Infatti Elisandro sarebbe Elisandro Elisandro Sono corsi perché vengono a giocare nell'agiaccio Vediamo un po' invece il video del fratello Si chiama Elisandro Ammoni È già Cagliari a Iaccio c'è già tutto pronto Classe 2003 Vediamo un po' Oh Ha fatto il tunnel Lo voglio già Mi sa Lo voglio Numero 10 È in buffering Attenzione Questo è tutto contro la Francia C'è contro la Germania Lo voglio Abbiamo Luvumbo Comunque Se prendono lui con Masala e non Masala come dice qualche telecronista di Sport Italia di Sky e del Pupo avrebbe un bell'attacco la primavera Meno male che non ci sono più la rive ragazzo altrimenti non due è l'agiaccio Era il Bastiano non era l'agiaccio non siete nemmeno preparati Valle queste riprese Vabbè sono un po' di calcio giovanile Oh Anche lui comunque cioè vorrei fare una partita con Luvumbo e lui assieme Si con tre palloni in campo Esatto Si 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 tra passa aspetta aspetta Prova il numero che fa Beh questi erano i fratelli Trammoni ne abbiamo parlato nell'ultima live che trovate nei video suggeriti diteci nei commenti se vi sono piaciuti se possono essere dei buoni rinforzi sia per la prima scuola nel caso di Matteo sia per Lisandro per quanto riguarda la primavera e noi ci diamo appuntamento ovviamente al prossimo video per parlare di calciomercato ma anche di Cagliari Lazio per la prima scuola per la prima scuola per la prima scuola Grazie a tutti.